Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con la meteo di TV6. Nel corso di questo mercoledì 25 maggio avremo un peggioramento delle condizioni del tempo su buona parte del nord, a sprazzi anche al centro Italia, mentre il sud verrà sovrastato da nuvi medio-alte e velature richiamate da correnti più umide e calde nordafricane che porteranno anche tanto pulviscolo sariano in sospensione alle medio-alte e quote. In Abruzzo una giornata da piena estate, avremo cieli sereni al mattino, poi tra pomeriggio e sera i cieli tendranno a sporcarsi un po' ovunque per effetto del pulviscolo menzionato poc'anzi, anche un po' di nubi medio-alte, non ci saranno particolari fenomeni, più qualche brevissimo piovasco a ridosso dei monti. Le temperature ancora pienamente estive, valori tra i 29 e i 32 gradi nei valori massimi nel corso del pomeriggio, le minime invece oscilleranno tra i 14 e i 20 gradi. Grazie per averci seguito, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.